La storia del cosiddetto mostro di Firenze si è conclusa con una sentenza passata in giudicato. La questione che si può porre adesso è la seguente, ma le sentenze che vanno sempre rispettate sono sempre assolutamente attendibili o no? Il mostro di Firenze rappresenta il caso criminale più lungo e controverso della cronaca nera italiana. Le indagini hanno portato all'arresto dei cosiddetti compagni di merende, condannati poi in via definitiva, ma solo per gli ultimi quattro duplici delitti, quali autori materiali, i mandanti, sono rimasti sconosciuti e tutt'oggi sono ancora oggetto di indagine. Ma le nuove ricerche portano ad un'altra conclusione, la vicenda ha fatto discutere e continuerà a farlo. Il compito del libro di Paolo Cocchi, al di là di ogni ragionevole dubbio, è quello di raccontare i dettagli dell'infinita vicenda basandosi sugli atti processuali, ma evidenziando elementi mai portati alla ribalta. Esiste dunque un'altra verità. Giancarlo Lotti, alla luce delle dichiarazioni che fece, questo libro le riporta tutte e vado ad analizzare alcuni punti che sono dei punti fondamentali, tipo il giorno dell'ultimo omicidio di Scopeti nel 1985 e di tanti altri aspetti, anche quello dell'82. Da questo emerge un quadro sicuramente diverso, ripeto, dalle documentazioni dell'epoca, dalle testimonianze dell'epoca, dai rilevamenti dell'epoca, un quadro sicuramente diverso da quello che poi è stato l'esito processuale, almeno secondo quanto viene fuori dagli atti.